L'Australiana sta mettendo a letto migliaia di italiani a dura prova i pronto soccorso degli ospedali. È arrivata in anticipo l'influenza stagionale rispetto alle previsioni degli esperti e conforme sia lievi che acute. Secondo i dati della rete di sorveglianza di InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 28 al 4 dicembre sarebbero ben 943.000 gli italiani contagiati. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati soprattutto nei fine settimana, quando i medici di famiglia e le case della salute sono irreperibili. Ad Arezzo ci conferma il direttore della medicina di chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Donato, Maurizio Zanobetti, si registra un 30% di accessi in più, su un totale che rimane comunque già di per sé molto alto, circa 220 accessi al giorno. I sintomi principali sono febbre, tosse, insufficienza respiratoria, afferma Zanobetti, sintomi comuni anche al Covid, che ha avuto un lieve incremento, ma non tale da giustificare il 30% della sintomatologia. Quindi è la sindrome influenzale a causare il maggior accesso ai pronto soccorso. Nei pazienti fragili, prosegue il dottore con diverse patologie, e negli anziani non vaccinati, la sindrome influenzale determina spesso la necessità di alcuni giorni di ricovero e questo si ripercuote sulla mancanza di posti letto a disposizione. Sebbene, conclude Zanobetti, l'ospedale San Donato di Arezzo abbia un'ottima organizzazione per contrastare il fenomeno del boarding, cioè l'attesa per un posto letto. Grazie a tutti.